Il Mar Piccolo di Taranto è una delle zone d'Italia dove c'è ancora una grande popolazione di cavallucci marini. Quindi si è deciso insieme all'Università di Bari, al CNR di Palermo e in accordo con il Comune di Taranto di aiutare questa popolazione prelevando qualche cavalluccio e portandolo da noi in acquario dove seguiremo le prime fasi della riproduzione per poi riportare questi animali piccoli cuccioli in ambiente per aiutare questa popolazione a riprendersi. Durante le prime fasi di uscita dei piccoli, questi sono maggiormente predati quindi il tasso di sopravvivenza è molto basso. Si spera nel nostro progetto pilota di aumentare questo tasso di sopravvivenza delle poche copie che abbiamo prelevato che si riprodurranno, dei piccoli che nasceranno e quindi di poter reintrodurre in ambiente diversi cuccioli già svezzati e quindi già in grado di sopravvivere meglio alle condizioni naturali. Genovesi fra i più tertassati dei autovelox lo dicono le statistiche dei consumatori del Codacoms che hanno accertato che nel 2022 nelle casse del Comune di Genova sono finiti ben 10 milioni e 700 mila euro ottenuti da infrazioni accertate con i velox. Peggio è andata solo a Firenze, città regina dei autovelox con un incasso di oltre 23 milioni di euro e Milano con quasi 13 milioni. A Napoli dove la viabilità è una giungla le multe inflitte con gli autovelox hanno garantito proventi di neanche 19 mila euro. Il triste record di Genova è figlio anche di un errore commesso in corso Europa dove c'erano limiti di velocità diversi in pochi centinaia di metri con tanto di un 30 chilometri in discesa quasi impossibile da rispettare. Lì il Comune ha fatto retromarcia. In corso Europa c'erano stati molti incidenti con conseguenze gravi quindi necessitava inevitabilmente di mettere dei sistemi di controllo delle velocità. È ovvio che poi col tempo abbiamo cercato di armonizzare quelli che erano i limiti perché lì avevamo limiti a 70, limiti a 60, limiti a 50 chilometri orari. Questo creava anche confusione. Abbiamo uniformato tutta la corso Europa a 60 chilometri orari tranne nei punti dove ci sono le pensilline delle fermate dell'autobus dove il limite è 30 chilometri orari. L'uniformità sicuramente ha dato più certezza anche su quelli che sono i limiti da rispettare. L'assessore nell'estilare la mappa dei Velox Fissi ne annuncia uno nuovo in Val Polcevera. Il Velox Fissi ce l'abbiamo sulla sopraelevata, sul lungomarecana e poi in corso Europa. A breve ne verrà montato un altro in Via Polonio che è un'altra strada dove si ha la tendenza in questo momento ad andare un po' troppo veloce. L'imprenditore Alfonso Lavarello sarà il nuovo presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo. Andrea Mentasti, manager varesino con un'esperienza di 4 anni al vertice dell'aeroporto di Bergamo Orio Alserio, potrebbe invece ricoprire i ruoli di direttore generale e amministratore delegato, prendendo il posto del DG Piero Righi che lascerà a fine mese. Lavarello, 75 anni di tradizione cattolica, nato e cresciuto nel quartiere di Castelletto, è il classico esempio di un genovese capace di fare una carriera straordinaria, sempre quasi lontano dai riflettori. L'understatement come stile di vita, come marchio di fabbrica, molto vicino alla MSC di Gianluigi Aponte, di cui è affidato consigliere, Lavarello ha fatto successo soprattutto oltreoceano grazie al rapporto con Cuba e con Fidel Castro. È l'uomo che infatti riuscì a riportare le navi da crociera a Cuba 36 anni dopo la caduta del generale dittatore Fulgenzio Batista. Manager di fama internazionale, innamorato della sua città, due caratteristiche importanti che hanno di fatto spinto Autority Portuale e la politica a convergere sul suo nome. Il prossimo 15 giugno le nuove nomine nel corso dell'assemblea durante la quale verrà approvato anche il bilancio. Abbiamo messo insieme una squadra nella quale c'è la difesa, nella quale c'è Fincantieri, nella quale c'è Rina, per fare questo arsenale un modello italiano da poter poi esportare in tutto il mondo di efficienza, di tecnologia, di qualità. Certo il lavoro da fare è tanto perché sono i decenni che si sono accumulati di non utilizzo, di cattiva manutenzione oppure di mancanza di risorse e dovranno essere fatti nei prossimi anni, dovrà essere fatta una rivoluzione che consenta a questo arsenale di diventare non un punto di riferimento per la Spezia, per la Liguria, ma per l'Italia e per l'Europa. Il arsenale, come ha detto il Ministro della Difesa Crosetto, sarà il fulcro dello sviluppo futuro non solamente della nostra Marina Militare, ma anche della tecnologia, della ricerca, della costruzione di nuove unità, quindi un polo che sia militare ma che sia anche industriale che dà ricchezze e lavoro. Credo che fosse una notizia attesa da questa città che è molto adatto alla Marina e molto ha ricevuto per costruire insieme un futuro. I numeri parlano da soli, 34 mila metri quadri di esposizione, oltre 310 aziende, 78 internazionali abbiamo oltre 50 convegni a livello internazionale, devo dire che tutto il mondo delle tecnologie del mare si è riunito qui oggi alla Spezia sul nostro territorio. La nuova diga foranea del porto di Vado prende forma, è stato infatti affondato il primo dei nuovi quattro cassoni che andranno a comporre la nuova barriera. Sono dei cassoni fra i più grandi mai realizzati e hanno dimensioni di 31 metri per 22 in pianta e 26 metri e mezzo di altezza. Una volta terminata la realizzazione all'interno del bacino il cassone viene varato, portato nel bacino portuale dove viene allestito con le solette e tutti gli apprestamenti necessari e poi portato nella posizione di progetto dove viene affondato, prima con acqua e poi con materiale lapidio. La prima fase progettuale che ha un valore complessivo di 80 milioni prevede lo sviluppo della diga per circa 475 metri tramite il riutilizzo di 13 cassoni rimossi dalla vecchia infrastruttura oltre ai quattro realizzati ex novo. L'intervento insiste su fondali con profondità variabile dai 35 ai 50 metri e consente di aumentare di circa 150 metri la larghezza in corrispondenza dell'imboccatura. La fine della prima fase dei lavori è fissata per il mese di maggio del 2025. Successivamente la diga foranea sarà completata con ulteriori 250 metri di barriera protettiva. Il secondo lotto è attualmente in fase avanzata di progettazione. Da due immobili confiscati alla mafia che venivano usati per lo sfruttamento della prostituzione nascono due case della bicicletta per i residenti del centro storico di Genova. Le due postazioni sono state inaugurate tra Vico Boccanegra e Vico Cannoni nel sestiere della Maddalena. Il primo ha disposizione 16 postazioni, nel secondo 8. Questi sono luoghi che la criminalità organizzata usava per fare reddito chiaramente con lo sfruttamento della prostituzione e quindi chiaramente con altri traffici illeciti. Quindi questo è il secondo messaggio che diamo. I locali che sono sequestrati per attività criminali diventano invece molto importanti per quello che è invece l'uso sociale dei luoghi. Il nuovo servizio contribuirà a promuovere l'uso delle due ruote come mezzo di trasporto sostenibile. Una delle richieste principali degli abitanti ma anche dei commercianti era proprio quella di avere dei luoghi adibiti al posteggio della bicicletta perché in centro storico è comprensibile come sia un mezzo molto efficace e utile e congeniale per girare. Il sogno poi è far sì che in futuro anche turisti e non solo possano usare sempre più le bici per muoversi in città. Gli stessi ragazzi della Movida speriamo che possano scendere in bicicletta nella Movida quindi benvenga questa attività e speriamo che si espanda sempre di più. Sorprende il Don Pasquale riletto dalla regia di Andrea Bernard che ambienta l'opera di Gaetano Donizetti tra Casino e Nightclub sul palco del Teatro Carlo Felice. Il protagonista al classico avaro della Comida dell'Arte è il proprietario di Casino Cornero mentre Norina la modesta vedova di cui è innamorato il nipote Ernesto diviene una scaltra e seducente Fon Fatale che lavora in One Night. Una prima che divide il pubblico incontrando più il favore dei tanti giovani presenti in sala oltre 300 e porta in scena gli allievi dell'Accademia di Alto Perfezionamento. Dei giovani stanno presentando il Don Pasquale ai loro colleghi presso Rapallo e altre città della Liguria perché possano venire a vedere questo spettacolo e a partecipare al Festival di Nervi la prossima estate. Ma i giovani saranno ancora più protagonisti in autunno al Teatro della Gioventù. Sono le ultime settimane dei lavori di ristrutturazione con i fondi del PNRR, saremo pronti immediatamente per settembre-ottobre e quello sarà lo spazio dedicato ai giovani, alla formazione, alle contaminazioni tra generi, alla multidisciplinarietà. Un motociclista genovese di 66 anni è morto in un incidente che ha coinvolto anche un camion all'ingresso dell'autostrada A10 Savona 20 Miglia, a qualche centinaia di metri dal casello autostradale. La vittima è Marcello Ciarlo di Genova, pensionato amante della motocicletta. Sulla dinamica dell'incidente tra la moto e l'auto articolato stanno indagando ora gli uomini della polstrada del commissariato di San Pierdarena. L'uomo sarebbe infatti finito sotto le ruote del mezzo pesante. Sul posto intervenuti i militi della Croce Oro dal Bissola e l'automedica, ma il motociclista era già morto. Prima il litigio, poi lo spray il peperoncino, poi il fendente con una lama da 10 centimetri. È stato arrestato l'uomo di 62 anni, accusato di aver accoltellato un tecnico della ditta dell'Acqua Smag, incaricato di chiudere il contatore in un condominio moroso di via Chiusoni, a San Pierdarena. Si chiama Osvaldo Curelli, ha 62 anni e risiede nello stesso palazzo dove vive anche il figlio, l'inquilino moroso per cui era venuto il tecnico. Da una prima ricostruzione, Curelli ha ferito la vittima con un coltello con una lama di 10 centimetri e dopo lo ha inseguito per alcuni metri fino all'arrivo dei carabinieri. Il capo di accusa per l'uomo ora arrestato potrebbe essere lesioni aggravate o tentato omicidio. Quando i militari sono intervenuti, lo hanno trovato ancora con il coltello in mano. Verrà denunciato anche il figlio dell'aggressore che poco prima dell'accoltellamento ha spruzzato lo spray al peperoncino contro il tecnico. Il lavoratore di 35 anni è ora ricoverato per la ferita al petto all'ospedale Villa Scassi di San Pierdarena e non sembrerebbe in grave condizioni. Non ne ho la certezza. Avevo accennato, ma non ne sono sicuro, ma è una possibilità a un celebre genovese Enzo Tortora. Quindi vuol fare un film su Enzo Tortora? No, perché si era detto, si era parlato di una serie. Dopo la serie di Esterno Notte, siccome è andata molto bene, facciamo un'altra serie, venne fuori questo personaggio. Adesso poi i tempi sono un po' cambiati e allora potrebbe essere un film e non una serie. Però ci sta pensando. Ci sto pensando, sì, ma però non ne sono certo. Però ci sto pensando perché è un personaggio in qualche modo tragico, ma che ci permetterebbe di parlare anche della televisione, di cui lui fu un protagonista assoluto. L'arresto sul lungomare dell'assassino, che come è in trans, non ha opposto resistenza e viene identificato dalla tessera sanitaria. Poi la perquisizione della sua abitazione a San Pierdarena, dove la porta era sigillata con il nastro adesivo. Il sequestro di una fodera di coltello. Oggetti gettati sul divano e strane scritte su una parete. A prima vista farneticanti. Ho superato qualunque cosa. Davanti al presidente della corte d'assise, Massimo Cusatti, è entrato subito nel vivo con l'audizione di quattro poliziotti dei volanti sul processo di Alberto Scagni, imputato per l'omicidio della sorella Alice avvenuto il 1 maggio 2022 in via Fabrizi a Quinto. Scortato dalla polizia penitenziaria, l'assassino è arrivato in aula con una maglietta verde sotto una felpa dello stesso colore. Dopo le rinunce all'incarico di due studi legali ad assisterlo è il difensore d'ufficio Mirko Bettoli. Sino all'inizio dell'esame dei testi, in aula anche i genitori di Alice e Alberto, Antonella Zarri e Graziano Scagni, con il loro avvocato Fabio Anselmo, poi costretti a uscire perché anche essi testimoni. Dietro di loro Andrea Vernazza, avvocato di Gianluca Calzona, il marito di Alice. Fra i familiari e l'imputato, solo gelo. Per i genitori il figlio è completamente incapace di intendere e di volere, per il cognato è l'esatto opposto. Cusatti ha fatto infuriare i coni Giscagni con una sforbiciata alla lista dei testi dell'avvocato Anselmo, cancellando anche chi doveva parlare delle condizioni mentali di Alberto prima dell'omicidio. Escluse anche i testi collegati al fascicolo bis, aperto dopo l'esposto dei genitori contro l'operato di AS3 e polizia che ha portato ad indagare due poliziotti e un medico del servizio di salute mentale. Poi in aula sono sfilati i quattro poliziotti testimoni in servizio alle volanti della questura. I primi due sono la pattuglia che ha arrestato Alberto. L'ho notato anche se era buio e grazie ai fari della volante ha spiegato la capopattuglia Flavia Mantovani. Le nocche delle mani graffiate e poi qualche goccia di sangue sui pantaloni. Lo abbiamo messo in auto e è rimasto in silenzio. Un grande impegno perché ci sono cose importanti da difendere come la libertà dei traffici marittimi, come la sicurezza del trasporto dell'energia o delle telecomunicazioni, perché le forze armate 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, lavorano perché l'Italia sia sicura, perché in Italia continua a esserci la pace e la democrazia. La marina lo fa a migliaia di chilometri di distanza con persone che per mesi stanno in altre parti del mondo in cui spesso ci dimentichiamo che oggi abbiamo voluto ricordare e ringraziare. La spezia e la marina sono una cosa sola. Non riuscirei a pensare alla spezia senza marina o marina senza la spezia. Adesso bisogna rifare dell'arsenale quello che è stato un tempo, un elemento di innovazione che ci metteva al primo posto nel mondo. Dovremmo ritornare così. Finalmente si parla di un rilancio, di un'apertura anche dalla base navale alle imprese e questo nei prossimi mesi lo andremo a verificare, sperando che la spezia ritorni sempre di più a essere capitale della minorità italiana e delle tecnologie. Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova diga di Genova. Sono state già posate sul fondale marino circa 100.000 tonnellate di ghiaia che contribuiranno alle operazioni di consolidamento. Le attività di posa procedono a pieno ritmo e impiegano due navi da piombino che hanno già effettuato 70 viaggi e continueranno fino a settembre 2024. Fra un paio di settimane poi nel fondale saranno realizzate 70.000 colonne di ghiaia lunghe tra i 7 e i 12 metri, così da garantire stabilità al basamento su cui poggerà la barriera, operazione che avverrà grazie all'impiego di quattro piattaforme galleggianti di 600 metri quadrati, i pontoni, ognuna delle quali attrezzate con due gru. Questa fase di lavorazione è prevista durare per i prossimi 17 mesi, mentre la realizzazione dei cassoni partirà il prossimo settembre. Tutta la Liguria in festa per la ripartenza dell'intera tratta del trenino di Casella, dal salame più lungo del mondo di 40 metri a Sant'Olcese, alla stazione di Crocetta Dorero con la visita guidata al Museo Diffuso, a cura degli amici, Ferrovia Genova-Casella con degustazione di vini e focacce tradizionali, fino al pranzo con le specialità del territorio all'Expo di Casella. Genovesi, e non solo, si sono ritrovati a celebrare questa giornata storica come storico al trenino di MT in funzione dal 1929. Un momento che ha segnato intanto una tregua tra i due salumifici rivali, da sempre, di Sant'Olcese, che insieme hanno realizzato questo record. Il salame, verrà venduto e ricavato, sarà devoluto alla scuola dell'infanzia all'orsetto e il presidente di Regione Liguria, Giovanni Totti, è stato nominato ultra protettore del salame con la consegna del bastone del mandriano. Il combinato del trenino che riparte, molto atteso da queste parti, il trenino di Casella, che è un luogo a cui i genovesi sono affezionati, ma è anche una comodità per i pendolari di questa valle con i suoi 14 corse al giorno, poi il salame che è un pezzo importante della nostra enogastronomia, quella un po' meno conosciuta nel mondo rispetto al pesto, ai pansotti, alla focaccia di Recco, però gustosa ed è un pezzo di quella politica di integrazione tra la città, la costa, l'entroterra, le tradizioni, la natura che vogliamo valorizzare per valorizzare la nostra Liguria. Grazie.